Sono marchi intenti marchi di lato adesso Va bene Adesso Adesso Poi c'è un'altra cosa che vuol dire 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 Si ripetere Le due marcano su Su lato Va bene Poi diamo per il punto Quello lì puoi vittare E fissare qua Soprattutto per l'altro E nonostante E se stesse più per la canna Nonostante E nonostante E nonostante 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 E nonostante E nonostante Andiamo tranquilli Andiamo avanti Non è che si può fare 20 a 30 40 a 40 Nonostante O di più Quindi Vi ho da adesso Nelle palle Di giocare a pallacarendro Avanti 14 E non avanti 30 Chiaro? Eh? Ci siamo?